ok ragazzi sono qui ho preso le coordinate di casa scriviamoci anche queste dell'end 944,967 63 slash meno 1324 meno 1324 3,530 ok non siamo nemmeno molto lontani da casa dobbiamo andare a 265 andando sempre dritto per di qua dovremo trovare casa 265 e meno 93 ragazzi sempre dritto in questa direzione ok 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 265 e meno 93 questa è l'isola di casa mi sa di sì ragazzi sì qui andando di qua e poi perfetto siamo arrivati a casa posiamo la nostra barchetta qui andiamo a prendere i blocchi abbiamo anche l'end vicino abbiamo anche l'end vicino casa ragazzi direi di fare un piccolo sentiero direi quasi quasi di fare un piccolo sentiero sta facendo notte allora dormiamo 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 Grazie a tutti. No. Sta giusto vicino alla zona che dovrò fare poi giapponese. Andiamo a prendere ragazzi dei blocchi così ci delineiamo anche con i blocchi per arrivare vicino direttamente all'ende anche volendo a piedi senza barchetta. Ci svuodiamo un po' l'inventario. Abbiamo trovato un piercing 4, knockback 2 e loyalty 3. Allora, piercing 4, knockback 2 lo metto sulla spada, loyalty 3 e fire protection. Questo è per la chest plate, mi sa. Protezione per il fuoco 3. Vediamo un po'. Allora, manning e fire protection 3. Ok. Poi knockback. Perfetto. Perfetto. Così anche se è caldo nella lava o la protezione a fuoco, questo lo metto. lo metto. Perfetto. Allora, il legno. Il ferro va qua. Ah, questo le deve posare. Blitz powder. Dovrò poi uccidere gli enderman per poi attivare il portale. charcoal, qua mi faccio un po' di torce, la sabbia posso posare qua, questo qui, le frecce. lo metto qua, queste mi faccio altre torce, perfetto. charcoal lo metto nella fornace, qua mi prendo dei blocchi per la fornace. per poi delineare il land, charcoal lo metto qui, ok direi che possiamo andare a delineare la zona del land, possiamo questo template prima che lo perdo, i libri possiamo anche quelli, e possiamo iniziare a delineare anche la zona per andare nel land. Anche le pesce, ecco le pesce, ecco le pesce. Ok. Grazie a tutti. Poi ovviamente ragazzi sarà sistemata a meraviglia. Abbiamo i cavalli qui. Ok, ritorniamo verso l'end. F3 devo andare a 944 e meno 1324. Quattro. Dice il tempio. Pinnaggia. Pinnaggia. Si cacchio di guardiani. 1324. 1324. 1324 ah qua c'è l'isola dei funghi 1324 e 944 andiamo a 944 e 944 e 1045 e 1045 e 1045 e 1045 e 1045 e 1045 questo quanto dura sono due minuti e venti ancora sono ancora a 600. Devo arrivare a 944. 944. Mino 1324. Mino 1324. 1.000. 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